I cassetti che solitamente erano chiusi erano aperti e rovistati, ci siamo accorti che mancavano dei soldi all'interno di questi cassetti e poi guardando bene abbiamo capito un po' la dinamica, abbiamo capito che era entrato qualcuno che aveva rovistato, preso i soldi che avevamo e poi era fuggito. Hanno aperto anche dei cassetti in ufficio e hanno trovato anche altri soldi. Sì, adesso non è che teniamo grandi cifre, però sono i soldi che noi abbiamo per andare avanti con l'attività, siamo una cooperativa sociale, abbiamo persone inserite qui come lavoratori, per cui sono soldi che ci servono per mandare avanti le attività. Quanto tempo state via per la pausa pranzo? Un'ora precisa praticamente, dalle 13 alle 14, perché hanno fatto una cosa abbastanza veloce, quindi non è che è stato tanto. Quindi hanno fatto una sorta di appostamento, vi hanno badato e appena siete usciti? Supponiamo che sia andata così, supponiamo che sia stata quella la dinamica, perché se no è stato troppo preciso l'intervento, per cui penso che ci abbiano visto uscire e poi hanno approfittato dell'assenza per fare il tutto. E voi non avete impianto d'allarme nulla? Noi qui non abbiamo impianto d'allarme, perché le attività che abbiamo sono di modica, anche i materiali sono di modico valore, per cui non è che abbiamo dei valori importanti dal punto di vista degli oggetti. Poi ne abbiamo tanti, per cui siamo pieni di cose, però non sono di grande valore, per cui sarebbe stato anche difficile portarli via tutti. Ecco.